RISING TEAM Il BMW Group sta aprendo un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione di una gran coupé completamente elettrica, la Concept i4, che porta la trazione elettrica al centro del marchio BMW e inaugura una nuova era del piacere di guidare. La BMW Concept i4 rappresenta uno sguardo al futuro della BMW i4 che dovrebbe entrare in produzione nel 2021 come il primo modello completamente elettrico del BMW Group nella classe premium di medie dimensioni. Fornisce una visione completamente elettrica dell'eccellenza dinamica per cui BMW è celebre e fonde un design moderno ed elegantemente sportivo con la spaziosità e la funzionalità di una gran coupé a quattro porte, il tutto generando zero emissioni locali. L'esterno moderno ed elegante rappresenta un contrapunto al fascino dinamico dell'esperienza di guida. Le proporzioni da gran coupé perfettamente risolte creano un aspetto autentico e sicuro di sé. Il passo lungo, la linea del tetto fastback e gli sbalzi corti formano un profilo di base ricco di eleganza e dinamismo. Con le sue quattro porte, la BMW Concept i4 offre non solo un alto livello di usabilità e praticità quotidiane, ma anche un interno molto più grande di quanto le proporzioni moderne e dinamiche dell'auto suggerirebbero immediatamente. Linee nitide e morbide e volumitesi si fondono in una scultura ricca e dai contorni uniformi e creano un linguaggio chiaro e superficiale. La moderna tinta degli esterni Fruzen Light Copper riprende una sfumatura di colore vista sulla BMW Vision Eye Next e mette in mostra l'interazione delle superfici con effetti visivamente sbalorditivi. Nel corso della presentazione della BMW Concept i4, BMW presenta per la prima volta il nuovo look del marchio. Il nuovo logo per le comunicazioni fornisce anche la base per il badge sulla BMW Concept i4. L'interno della BMW Concept i4 si concentra su quei momenti in cui il guidatore sceglie di guidare la vettura in prima persona. Per questo, ogni elemento nella parte anteriore dell'abitacolo è rivolto verso il guidatore. Il nuovo Courant Display BMW si unisce al volante per rivelare una nuova interpretazione dell'orientamento al guidatore e offre un'anticipazione del display delle versioni di produzione della BMW Eye Next e della BMW Eye 4. Tre diverse modalità di esperienza consentono agli utenti di esplorare le varie sfaccettature del sistema di azionamento elettrico e di dare uno sguardo, almeno in termini visivi, al sistema operativo di prossima generazione. Il motore elettrico sviluppato per la BMW Eye 4 genera una potenza massima fino a 530 CV che lo colloca al pari di un attuale motore a combustione BMW V8. La sua erogazione istantanea della potenza conferisce alla BMW Eye 4 prestazioni straordinarie e un'eccezionale efficienza. La quinta generazione di BMW E-Drive porta anche una batteria ad alta tensione di nuova concezione con la più recente tecnologia delle batterie. La produzione in serie della nuova BMW Eye 4 inizierà nel 2021 presso lo stabilimento principale del BMW Group a Monaco. RISING TEAM